Buonasera a tutti, bentrovati. Io mi sono trasferito alla GeoProject Diari per conoscere un po' più da vicino questo studio tecnico associato di Rocco Santone e la geometra Maria Letizia De Cesare. Buonasera. Buonasera. Tutto bene? State bene? Sì. Siamo, come dire, di buon umore. Siamo certamente di buon umore, sì. Sì, io mi sono venuto qua proprio per conoscere un po' più da vicino questa bella attività associativa. Sì, questa è un'attività associativa a uno studio tecnico associato che ha origini tra i radici da lontano, perché l'ultimo atto dell'associazione è stato nel 2005. Cioè nel 31 maggio del 2005 noi abbiamo costituito lo studio tecnico associato, ma già da prima ci trovevamo nelle condizioni di un'associazione, diciamo, di fatto. Poi l'abbiamo così sancito tramite contratti, però insomma, ecco, già eravamo associati, perché abbiamo pensato che gli studi professionali non potessero continuare, non potevano continuare così con un solo elemento titolare, ma che ci fossero più sinergie messe insieme tra loro per poter poi avere un riferimento sicuro anche da parte degli utenti. Quindi è uno studio tecnico, diciamo, in zona, uno dei primi studi tecnici che si è associato e che continua nell'associazione, perché molti hanno sperimentato questa formula, però non sono riusciti oppure ci sono stati dissidi tra le parti. In realtà noi, diciamo così, proveniendo già da una intesa lavorativa precedente, abbiamo continuato e consolidato quello che era un rapporto già di professionale, di ottima conoscenza e collaborazione. Per cui, diciamo così, che 12 anni, uno studio che resiste 12 anni e che prosegue in perterrito il suo cammino in un comune così piccolo come Ari, circa mille anime, poco più di mille anime, è un risultato sicuramente soddisfacente. Sicuramente non solo clienti locali, ma clienti che arrivano da tanti altri paesi limitrofi, no? Sì, infatti noi svolgiamo attività tecniche per tutti i paesi limitrofi, in particolare per Giuliano Teatino, Casa Canditella, Villa Magna, Farrafiglio Lumpetri, dove abbiamo anche un altro punto aperto, dove riceviamo i clienti solo su appuntamento, diciamo. E quindi cerchiamo di soddisfare un ampio raggio di clientela che abbiamo e che attualmente allo Stato sono molto soddisfatti e quindi continuano a venire in questo studio, appunto perché sono molto soddisfatti. L'alta professionalità, non solo vostra, ma anche dei vostri numerosi collaboratori, sicuramente fa sì che la gente sia sempre maggiore, i clienti siano sempre di più. Certamente, noi abbiamo una schiera di collaboratori molto qualificati, non solo colleghi geometri, ma ci serviamo di altri professionisti, ingegneri, architetti, geologi di primo livello. Per cui, notai, per cui diciamo così che soddisfiamo la clientela, diamo risposte concrete alla clientela a 360 gradi. D'altra parte non può uno studio tecnico organizzato come il nostro non dare delle risposte certe ed esaustive. E questo è il punto di forza della nostra azienda. Sicuramente fate un sacco di servizi generali, insomma, ma la consulenza tecnico-legale cos'è realmente? Allora, quando un cliente ha un problema di liti, diciamo, con altre persone, si rivolge all'avvocato e quindi per fare degli accertamenti al fine di verificare se ci sono i presupposti per poter fare una causa o no. Allora, noi facciamo questo tipo di consulenze di parte e praticamente come le stime dei danni, quindi ci veniamo spesso nominati quali CTU e ci occupiamo non solo delle consulenze, quelle che le dicevo prima, ma anche delle esecuzioni immobiliari, quindi della vendita all'asta, della stima di questi fabbricati che poi andranno venduti all'asta. Possiamo dire che questa è un'attività tuttologa? È possibile? È un'attività tuttologa ma con delle punte di specializzazione, perché oggi il geometra è vero che è un'attività, una professione polivalente, però è anche vero che ci sono delle punte di specializzazione. Noi alcune specializzazioni ce le abbiamo proprio per destinazione, tipo la progettazione di opere pubbliche e di opere private, tipo gli accatastamenti, quindi l'attribuzione di rendite ai fabbricati urbani, frazionamenti e quant'altro, stime di immobili. E queste sono delle punte di specializzazione che noi abbiamo. Svolgiamo anche un'altra attività che è quella di essere coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione, perché siamo abilitati anche nel settore del decreto legislativo 81 del 2008. e manteniamo questa specializzazione mediante corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento. Di conseguenza siamo anche dei tecnici specializzati per quanto concerne l'antincendio, per cui noi possiamo rilasciare le certificazioni antincendio. Ne siamo 3.000 in Italia, non è che ne siamo poi tra ingegneri, architetti e geometri, quindi noi facciamo parte di quel gruppo dei 3.000 che possono fare le certificazioni antincendio. Di conseguenza abbiamo sì un ampio raggio, però queste punte di specializzazione ci rendono un attimino particolari. C'era Maria Artizia, ma di comune accordo tutto fila alla perfezione, all'unanimità? No, no, noi non abbiamo mai avuto problemi perché ci siamo subito capiti fin dal primo giorno. Praticamente come le spiegava prima Rocco, questa società è nata nel 2005, ma già lavorevamo insieme dall'84, quindi sono 33 anni che questo studio lo portiamo avanti e quindi senza problemi. Questa è un'attività immensa, cioè arrivare qui in un piccolo centro come Ari, trovare uno studio associato, organizzato in questo modo, è quasi inaspettata la cosa, insomma. Io adesso vorrei andare a conoscere intanto tua figlia perché fa l'avvocato, è in un altro studio, ma sta all'interno di questo fabbricato. E poi vorrei un attimo visitare così le altre stanze, è possibile? Poi ce li troviamo qua. Certamente che è possibile, quindi noi ci serviamo da alcuni anni anche dello studio di mia figlia, cioè dell'avvocato Paola Santone che all'interno del nostro studio non è associato con noi, però è un valore aggiunto che lo studio dà, una consulenza aggiunta che lo studio tecnico GeoProject dà alla propria clientela. Sicuramente una consulenza gradita, no? Certamente. Bene, all'interno dello studio associato GeoProject, naturalmente la stanza riservata all'avvocato Paola Santone. Buongiorno. Buongiorno, sono l'avvocato Paola Santone e appunto divido dei locali con lo studio GeoProject. Mi occupo prevalentemente di diritto civile, ma comunque anche di diritto penale, di diritto amministrativo. Cerco quindi di soddisfare le esigenze dell'utenza locale e sono a disposizione comunque della mia clientela. Clientela privata, al di là dell'associazione, insomma. Sì, comunque è mista. Abbiamo clienti in comune con lo studio GeoProject o anche dei clienti miei che comunque non sono clienti dello studio e anche delle società sicuramente. Certo che il cliente che si rivolge allo studio GeoProject trova tutti i servizi necessari per le proprie esigenze. Beh, certo. Comunque è uno studio abbastanza completo, considerato che sicuramente c'è l'appoggio tecnico e poi c'è anche questa realtà legale, per cui cerchiamo di soddisfare a 360 gradi le esigenze dei clienti. In un piccolo centro sicuramente non c'è molta delinquenza, eccetera. Quindi l'avvocato serve forse più a livello civile che penale. Sicuramente sì, anche se poi a seconda delle situazioni le responsabilità che si configurano possono anche qualche volta essere non solo di natura civilistica, ma anche di natura penale. Quindi ci sono poi diversi risvolti a seconda dei casi che capitano. Comunque sì, essendo il centro prevalentemente agricolo, le cause più frequenti che si incontrano sono relativi ai diritti di proprietà, ai confini, a obbligazioni. Quindi diciamo ci concentriamo più su questo ambito. Un giovane avvocato sicuramente è comodo, per comodità lavora a casa propria, come dire, al proprio paese, eccetera. Però l'aspirazione così di andare in una grossa città, che so io? Beh sì, comunque diciamo io ho anche un piccolo studio a Pescara, quindi cerco di dividermi tra il paese e la città. Ovviamente anche il tipo di clientela poi cambia e cambiano le esigenze, le problematiche, proprio le tipologie di cause. Quindi diciamo che oltre ad Ari sono operativa anche su Pescara e mi divido qualche giorno a settimana nello studio del paese e qualche giorno invece a Pescara. Ci lasciamo con una curiosità, un aneddoto particolare. L'avvocato è sempre, diciamo così, una persona, un professionista che deve operare prima ancora, che con le capacità intellettive e gli studi che comunque ha svolto nel percorso universitario, quindi che poi si sono fortificati con l'esperienza e con lo studio successivo, anche con il cuore, perché comunque deve essere vicino alle problematiche della gente e sentirle, farle proprie per cercare poi di risolverle. Grazie a voi. Prego, grazie a lei. Bene, siamo tornati nella postazione iniziale, sempre con il geometra Santone e la geometra Maria Letizia de Cesare. Io dico la geometra, adesso si usa dire così. Allora, la Geoproject ha vinto il premio nazionale di progettazione turismo itinerante Sosta Camper. Che cos'è? Sì, noi, il comune di Ari nel 2011 partecipò a una gara di progettazione per la sistemazione di un'area che sta proprio dietro il nostro studio per la Sosta Camper. Sosta Camper, quindi turismo itinerante, quindi Sosta Camper. Questo progetto è stato valutato a livello nazionale e ha vinto un premio a Rimini per, diciamo, come turismo itinerante. È stato ritenuto il miglior progetto in Italia. Di conseguenza il comune di Ari ha vinto un premio di 10.000 euro, quindi grazie a questo nostro progetto che prevedeva in realtà la realizzazione di queste piazzole con tutti i servizi primari e secondari. L'opera non è stata mai realizzata perché probabilmente il comune di Ari avrà avuto delle difficoltà nel reperire i finanziamenti, però per noi è stata una grande soddisfazione perché siamo stati avvisati non tanto dal comune ma siamo stati avvisati dalla giuria del premio, quale dice, ma voi non avete ritirato nessun attestato, non siete venuti a ritirare, noi non eravamo a conoscenza perché probabilmente l'assegnazione venne fatta in forma anonima, cioè quindi per non incidere sulla giuria. Infatti noi abbiamo soltanto preso atto di questo premio che ci era stato conferito al comune di Ari, di conseguenza al nostro studio che ha progettato dettagliatamente ed in modo molto molto competente questo recupero di quest'area. Il progetto ovviamente resta a disposizione dell'amministrazione dove volesse attuare questo progetto all'avanguardia. Possiamo sostenere che la GeoProject indubbiamente è sul mercato nazionale, non solo si occupa dei clienti dei paesi limitrofi ma su tutto il territorio nazionale. Questo sì perché abbiamo svolto numerosi incarichi anche per clienti che risiedono in altre regioni tipo le Marche, la Puglia e adesso non mi tornano in mente ma ne sono molti. Parliamo della preparazione e l'assistenza agli atti pubblici da parte vostra verso i vostri clienti. Sì, adesso è diventato un po' più complicato. Quando bisogna stipulare un atto di compravendita praticamente è necessaria la figura del geometra perché il notaio non stipula l'atto se non entra in possesso di determinati documenti. Ad esempio per la vendita dei fabbricati c'è bisogno sia dei titoli abilitativi con cui questo fabbricato è stato realizzato sia delle certificazioni energetiche oppure per i terreni dei certificati di destinazione urbanistica. Allora noi dobbiamo preparare tutta la cronistoria di questo immobile che deve essere trasferito in modo da non creare problemi futuri al cliente in caso lo dovesse rivendere. Geometra Santone, chi sono i vostri clienti? I nostri clienti sono vari. Partiamo dagli enti pubblici tipo l'amministrazione provinciale, le amministrazioni comunali per passare ai privati. Ma i privati noi abbiamo avuto e abbiamo dei clienti di altissimo ranco. Lavoriamo, abbiamo lavorato per, posso dire, posso fare un nome, per il primo presidente della Corte di Cassazione che si è servito di questo studio, il dottor Tamburrino. Abbiamo lavorato per onorevoli politici in generale. Oggi sappiamo che non è che vanno più di moda i politici, però abbiamo avuto e abbiamo tanti clienti, i nostri clienti politici ad altissimo livello che si servono di questo studio, di cariche istituzionali e non di meno anche delle curie. Svolgiamo attività professionali per conto della parrocchia, per la verità di beneficenza, ma per conto anche della curia di Lanciano Ortona. Svolgiamo quindi attività professionali di altissima specializzazione anche in quel settore, in attività tecnico-legale, sempre rivolto in attività tecnico-legale. Io sono il consulente del Tribunale di Chieti, come diceva la collega, come pure lei è il consulente del Tribunale di Chieti, stimato probabilmente da giudici che ci vogliono dare in carica a distanza ormai di 30 anni di rapporti che non si sono mai interrotti. Quindi ecco che abbiamo una clientela variegata, però per noi i clienti sono tutti uguali. Cioè la committenza per noi, noi abbiamo rispetto, massimo rispetto per tutti i clienti. Quindi di conseguenza non è che facciamo tanta differenza tra un cliente e un altro, però vantiamo tra questi clienti delle persone che hanno delle cariche istituzionali elevatissime e che ci onorano della loro fiducia che hanno sempre riposto in questo studio. È molto importante la precisione, è molto importante la puntualità, è molto importante la professionalità. Io da oltre 13 anni sono presidente del mio collegio professionale. Lo dico con orgoglio di essere di rappresentare una categoria professionale. Attualmente sono anche presidente regionale dei geometri d'Abruzzo, quindi rappresento 3.700 colleghi. Ovviamente la deontologia professionale da noi è stata sempre presa alla base del rapporto con il cliente. La grande chiarezza che ci contraddistingue. Me, ma soprattutto la collega, quale collega puntualizza sempre, perché giustamente è così, che il rapporto professionale deve essere puntualizzato prima per non avere discussioni dopo. Io ringrazio sempre la collega, dico la verità, perché io mi interesso più che altro dell'organizzazione. Lei si interessa di più di gestire la parte interna, il lavoro che si svolge all'interno dello studio, ma questo clima di massima chiarezza tra il professionista e il committente è alla base di un ottimo rapporto che deve esistere tra le parti. Altrimenti la professione diventa una guerra, cioè diventa un arrempaggio al quale poi non si può più resistere. E quindi bisogna, diciamo, cedere le armi. Noi l'abbiamo sempre improntata sulla chiarezza, sulla professionalità, su un rapporto corretto e chiaro. E questo è l'arma, secondo me, vincente per uno studio di medie dimensioni che si trova in un comune, diciamo così, piuttosto piccolo. Parliamo delle attività estimative pubbliche e private. Sì, allora, mi ricollego al discorso che ho fatto prima per quanto riguarda gli atti di trasferimento. A volte i clienti hanno bisogno anche di prendere un mutuo, allora noi facciamo le stime di questi fabbricati che devono acquistare in contraddittorio con la banca, perché la banca di solito ha sempre un suo consulente che ridice la perizia di stima. Mentre a volte facciamo anche noi praticamente le stime per le banche, quindi diciamo che serviamo il cliente a 360 gradi. Qualsiasi cosa gli serve siamo disponibili e quindi lo sappiamo fare e lo facciamo ben volentieri. Geoproject al servizio di una sempre più numerosa clientela, possiamo dire così? Sì, sì, proprio così. Per concludere questa nostra simpatica chicchierata, cosa possiamo dire? Io mi auguro che questo studio possa andare avanti ancora per molto tempo, sempre con le stesse basi, cioè le fondazioni, renderle ancora più solite. Le fondazioni ci sono. Consolidarle, diciamo, renderle antisismiche. Bene, Giotto Santone? Sì, per chiudere io volevo dire che è una realtà, una bella realtà che esiste in questo piccolo comune. Ci rende visibili anche all'esterno, diciamo la nostra professionalità rende visibili noi, ma rende visibili anche questo piccolo comune. Molti clienti vengono da fuori, apprezzano, diciamo, le nostre bellezze paesaggistiche, che non sono poche per un piccolo comune. E apprezzano soprattutto il nostro lavoro. Avere clienti in grosse città, avere, diciamo, i nostri clienti in grosse città ci inorgoglisce ancora di più. Perché vuol dire che un tecnico di un piccolo paese va a lavorare, va a operare all'interno di realtà dove i tecnici sono migliaia. E questo è molto importante. Io ricordo di aver fatto una perisia su Roma, diciamo così, e di essere stato non solo all'altezza di svolgere questa perisia, ma di avere alcuni, diciamo, clienti di controparte, di aver preso nota del nostro nominativo per dire, guardate, signori, che voi venite da fuori, che probabilmente siete, ne sapete forse qualcosa in più rispetto a quelli che vivono nelle grosse città. Quindi, ecco, noi vogliamo che questo studio sopravviva, che è una realtà, diciamo, per questo comune, ma soprattutto è una realtà per l'attività professionale di geometra, che non morirà mai. Il geometra risolve i problemi. Questo è il nostro motto. Questo studio risolve i problemi della gente. Bene, possiamo dire che questa piccola e ridente cittadina di Ari ha una grande organizzazione, che è la GeoProject. Robini, grazie. Grazie a te. Grazie a te.